E' iniziato lo spoglio delle elezioni provinciali in Trentino. In giornata scopriremo chi sarà il nuovo presidente della provincia autonoma di Trento e chi saranno i 34 consiglieri che andranno a comporre il nuovo consiglio provinciale. C'è già un dato però che conosciamo, su cui possiamo ragionare e su cui dobbiamo interrogarci ed è quello dell'affluenza. Ieri sera alle 22 alla chiusura delle urne erano andati a votare 257.914 elettori su 441.723 trentini che avevano diritto al voto, pari quindi al 58,39%. E' un dato sicuramente negativo. Il più basso da quando nel 2003 abbiamo l'elezione diretta del presidente della provincia. Nel 2003 l'affluenza era stata del 74%, nel 2008 del 73%. Nel 2013 aveva avuto un tracollo scendendo fino al 62%. C'era poi stata una timida ripresa nel 2018 salendo al 64%. Questo dato odierno invece conferma un trend in continuo calo che racconta molto della disaffezione delle persone verso la politica. Per quanto riguarda i comuni, a Davio, cittadina di residenza di Maurizio Fugatti, la partecipazione è sopra la media ma rispetto al 2018 è scesa al 67,56%. Nel 5 anni fa era stata del 71%. Non bene la partecipazione anche nei principali centri della provincia. A Trento si sono presentati alle urne il 57,24% degli aventi diritto. Nel 2018 erano stati il 64,78%. A Rovereto, la città di cui è stato sindaco, fino a un mese fa Francesco Valduga, il candidato presidente del centro-sinistra, l'affluenza è stata pari al 56,20%. Era stata del 60% nel 2018. Dati che non possono far stare tranquilla proprio la coalizione del centro-sinistra che nei principali centri urbani della provincia raccoglie la maggior parte dei suoi consensi. Male anche Riva del Garda, dove l'affluenza si è fermata al 47%, meno di un rivano su due è andata a votare. Di contro i comuni in cui c'è stato un buon andamento sono in Val di Non e in Val Sugana. A Campodennio affluenza del 76,39%, 79% a Castelcondino, 73,23% a Fierozze e 68% a Caldese. Ma come spiegare questo crollo dell'affluenza che ha speso quasi un trentino su due a non presentarsi alle urne non è semplice. Forse ha pesato una campagna elettorale sottotono in cui troppi dei temi fondamentali per le persone sono sembrati ai margini, prevaricati da temi magari meno importanti o dalle polemiche. Forse ha pesato anche l'assenza di un confronto diretto tra i principali candidati, anche perché il governatore uscente sia spesso negato. E questo forse ha spento la sfida invece di accenderla e bisognerà capire questo a chi ha fatto gioco. Rimane di certo il peccato che in una provincia autonoma in cui il presidente della provincia, il governatore, ha praticamente poteri pari a quelli di un primo ministro, la cittadinanza si senta così distante dai propri rappresentanti politici. Ed è questo il primo dato su cui tutta la politica è chiamata a interrogarsi. Un dato che toglie scuse a chi avrà perso e che dovrà necessariamente temperare i festeggiamenti di chi invece vincerà. Perché quando quasi un elettore su due non si presenta alle urne, la politica tutta ha perso.